Teatro del Grande Teatro Lorenzo Amato, accomodato qui con noi, ben trovato Ben trovati E poi Lorenzo Fiorito, critico, teatrale, musicale, cinematografico, un po' di tutto Buongiorno Lorenzo Ben trovato Ben trovato anche voi Allora, intanto c'è da segnalare che ci saranno delle splendide scene di Ezio Frigerio Costumi di Franca Squarciapino, premio Oscar per i costumi del 91 Quindi firme celeberrime delle nostre parti Oscar peraltro per il Sirano di Bergerac, quindi fantastico Parliamo subito di questo grande appuntamento Appuntamento emozionante, è un ritorno, è uno spettacolo che Napoli aveva già visto nel 2016 Che adesso riproponiamo in prima stasera Con un cast tutto nuovo Ma credo che del cast ci voglia parlare più il nostro amico Lorenzo Siamo due Lorenzi oggi in trasmissione, non so come ve la caverete voi Due Lorenzo, però c'è un supporto registrico particolare quest'anno Un supporto registrico particolare, è uno spettacolo molto complesso, devo dire Visivamente è molto affascinante Diciamo che per il 30% è costruito, l'80% è completamente virtuale Quindi gli spettatori si troveranno immersi in un'atmosfera magica In una foresta, in un bosco che cambia di continuo Una scenografia viva, pulsante Possiamo dire quindi che in realtà ci aspetteremo una norma quasi moderna Da questo punto di vista, se dall'80% è virtuale Però Lorenzo vorrei che spiegassi anche al pubblico Sebbene sappiamo che la norma è molto amata E ha sempre quel senso di fantastico, di magico e di affascinante Qual è la trama? Beh, la trama è appunto Norma è una delle poche opere che sono assolutamente conosciute a tutti Nonostante, come dire, ci sia ancora molto da fare per portare il pubblico all'opera Norma è la storia sostanzialmente che è tipica anche nel melodramma dell'Ottocento romantico Il rapporto, il conflitto tra amore, sentimenti privati e ragion di stato La cosa che lo stesso regista ha molto ben evidenziato E quindi si svolge nella Gallia dominata dai Romani Con Pollione che è il capo dei Romani di questa guarnigione romana Che governa la Gallia I Galli che vogliono ribellarsi ai Romani Però c'è la sacerdotessa dei Galli Che è Norma Che la quale ha segretamente un rapporto d'amore con Pollione Il capo dei Romani, da cui ha avuto due figli e non lo sa nessuno Lo stesso Pollione, l'essa sacerdotessa Ha infranto i suoi voti sacri per cedere all'amore E lo stesso Pollione però a sua volta adesso abbandona Norma E ha seduto un'altra sacerdotessa che è ad Algisa Quindi il conflitto tra questo Loro due, le due donne non sanno di questa cosa E quindi c'è questo conflitto tra le due Che poi si scatena alla fine del secondo atto Alla fine dell'opera E quindi praticamente Norma sceglie la ragione Prima vuole far bruciare ad Algisa Rocco per il vendetto Ma poi si rende conto della gravità di quello che sta dicendo E si propone lei stessa come si accusa davanti al suo popolo Accusa se stessa come quella che ha tradito E quindi si fa bruciare vive insieme allo stesso Pollione Che intanto è diventato prigioniero Questa è molto sinteticamente la trama Ma quello che è importante è che c'è il conflitto E le aree d'opera, le aree famose di Bellini Sono molte aree famose C'è una in particolare che a noi piace tantissimo Quella che cantavamo qualche volta e canticchiavamo Che è appunto Casta Diva La preghiera che Norma fa alla luna Perché le chiede di mettere pace È una vera poesia, tanta delicatezza Su cosa ha incentrato a questo punto la sua regia Perché c'è comunque qualche tratto originale Per catturare il pubblico Certamente Norma l'ha raccontata Lorenzo In maniera anche appassionante Però tende a essere un'opera un po' statica Perché è un'opera bel cantistica È molto difficile per gli interpreti eseguirla Io un po' come faccio in tutte le mie opere Sono un po' lo psicanalista dei miei personaggi E quindi cerco sempre dei tratti di modernità In cui tutti gli spettatori si possano riconoscere In Norma approfondendo Ne ho trovati moltissimi C'è questo conflitto tra la maschera Che dobbiamo indossare tutti i giorni E invece quello che è il nostro vero sentire Mettere in scena dei personaggi così tormentati E così moderni allo stesso tempo C'è una donna che compie il peccato peggiore Con il capo dei nemici Ha dei figli con questi nemici E arriva quasi all'infanticidio Sono tutti personaggi estremamente Estremamente tormentati Pieni di sensi di colpa Che mi riportano molto Anche a una realtà di oggi C'è una cosa molto originale Il finale del primo atto di Norma Adesso parlo un po' tecnicamente Ma lo dirò con semplicità All'epoca normalmente Il finale di primo atto Si chiudeva con un grande coro In questo caso invece Bellini Scelse di chiudere il primo atto Con un gruppo di famiglia in disfacimento Cioè con lui, lei e l'amante Già qui delle tendenze appunto contemporanee Perché se si chiama opera d'arte È proprio in virtù del fatto Che tutt'oggi rivivono Quei significanti e significati Che l'opera può restituire Insomma un'opera anche classica Può rispecchiarsi nei problemi moderni Forse qui la difficoltà anche Di renderla in scena Perché Norma Opera classica Però cercare di catalizzare L'attenzione anche dei giovani Su quest'opera è impresa assai complessa E la regia in questo senso La fa da patrone Eh sì, ho cercato di rendere Il più possibile interessante Questo spettacolo Anche per un pubblico giovane Io sono del parere appunto Quando ho avuto a che fare con Norma La prima volta Il primo pensiero che ho avuto è Deve essere uno spettacolo bello Bello da vedere Proprio perché è uno di quegli spettacoli Ripeto Per la difficoltà che ha Per gli interpreti Che non permette grossi movimenti Come quelli nel teatro di prosa Una grossa libertà Proprio di azione Da parte dell'interprete E quindi volevo che Il contenitore In questo caso è molto di più Di un contenitore Fosse qualcosa di fantastico Che parlassi un linguaggio Anche vicino A quello dei giovani Io stesso sono un appassionato Di fantasy Di serie televisive Che ce ne sono di bellissime adesso Potrei citare Il Trono di Spade Oppure tutta la saga Del Signore degli Anelli Non volevo riportare Questo spettacolo Alla dicotomia Asterix, Obelix Romani e Galli Ma proprio immaginarle In un mondo fantastico E di questo devo ringraziare Proprio due Lo scenografo Che hai citato tu all'inizio Frigerio e la Squarciapino Che hanno anche Grande esperienza nel cinema Quindi è un'opera cinematografica Cinematografica Vediamo delle immagini E a questo punto Ecco Il tratto probabilmente Di originalità È la presenza del coro Questo coro Che funzioni ha in questo caso? Perché ecco Non è a caso Che sia stato scelto il coro Che diventa un po' Il messaggio finale Dell'opera O quello che ti conduce Per mano durante L'intera opera Il coro ha un ruolo Grandissimo Nella partitura musicale E nella storia di Norma Spesso io Nelle norme Che avevo visto L'avevo visto un po' Cristallizzato Paralizzato In posizione Invece io Quando mi pongo Di fronte a un'opera Da mettere in scena Il mio primo pensiero È devo raccontare Una storia Che storia Sto raccontando Agli spettatori In questo caso Sto raccontando La storia di un popolo Che ho occupato Dei nemici Da anni Quindi ho voluto Mettere in scena La sofferenza La verità Di queste persone Che stanno soffrendo Di una dominazione Ostile Da lunghi anni Ecco perché È interessante Dicevo anche L'aspetto psicologico Lei dice Io sono Lo psicologo Intanto degli attori È molto interessante Anche perché Viene fuori Da quest'opera Insomma Anche l'oppressione Che si prova L'oppressione Che si prova Lo stato d'animo In cui si vive Una determinata situazione Questa è una cosa Che io posso Ovviamente fare Sia con il coro Ma molto di più Con i protagonisti Intanto una musica Veramente tanto amata Comunque quella Di Vincenzo Bellini Perché ancora oggi Si ama Ecco Al di là del fatto Noi parlavo prima Di quest'area Molti di noi Amiamo quest'area Appunto non conoscendone No La provenienza Però tutt'oggi La norma Piace veramente Tanto al pubblico Nonostante la complessità Secondo te Perché Lorenzo? Piace Perché intanto Bellini Come dire Il re del bel canto In qualche modo Ha inventato lui Come dire La semplicità La semplicità Forse del canto E la lunghezza Come dire La lunghezza Delle frasi melodiche Non erano più brevi Ma molto lunghe Molto articolate Ma anche molto Come dire Sentimentalmente Colpiscono ancora L'ascoltatore Tra l'altro Diciamo Proprio Bellini Secondo me Incarna Quello che è Come dire Lo spirito Che Wagner Da un certo punto di vista Contestava Lo spirito italiano E da un altro punto Amava Cioè Wagner Ironizzava Sull'orchestra italiana Perché l'orchestra italiana Diceva Wagner Ed è molto vero In Bellini Per i melodrammi Romantici Diventava solo Una grande chitarra Per accompagnare I cantanti Mentre Diversamente Gli aveva dato Lo spessore Gli aveva dato L'articolazione Wagner Nel stesso tempo Però paradossalmente Wagner Amava Bellini Che era un po' Il prototipo Di questo Accompagnare Il canto Perché Bellini In fondo Nelle sue accompagnamenti Che erano molto semplici Anche le concertazioni L'orchestrazione Era molto semplice Però riusciva a dare Sempre degli spunti Di Come dire Di contrapunto Di articolazione Armonica Molto interessante Per i musicisti Da una parte La bellezza del canto Anche la bellezza Dell'orchestra Che trasporta Lo spettatore Verso Ultima cosa volevo dire A proposito del coro Che è interessante Perché il coro In generale I registi Che spesso Mi accorgono Che non conoscono La musica E non è il caso suo Appunto Non riescono A far fare al coro Delle cose Non aspettare Il momento In cui devono entrare In qualche modo Ciondolano Sì Sulla scena Mentre lui Ed altri Lorenzo Madato Riesce a dargli Un ruolo Una personalità propria Quindi si muovono In un certo modo Sanno che cosa fare Anche quando non cadono E questo è molto importante Quindi parte viva Parte viva Della scena Della regia d'opera Questo è un bel compliment Perché spesso Spesso A volte si vedono Dei cori Sulle scene Che i prodotti Egoisti Che camminano Per l'aspettando Invece questa volta Abbiamo una completezza Anche di genere No? Musica Teatro Anche Ci gli ha dato Una personalità Esatto Di personalità Quali sono gli interpreti Per questa norma? Abbiamo degli interpreti Prima di tutto Il direttore d'orchestra Che è Francesco Ivan Ciampa È un direttore Che viene da Benevento Che sta facendo Una carriera enorme È arrivato qui volando Stava dirigendo La Traviata A Londra La Royal Opera House Prima di arrivare qui Che conosco da molti anni Abbiamo fatto la gavetta Insieme Però era la prima volta Che ci siamo incontrati Come regista E direttore d'orchestra Insieme a San Carlo Insieme al San Carlo Mi sembra un buon inizio Insomma un buon luogo Per incontrarsi Abbiamo un grandissimo Due grandissime norme Che sono Maria Giuseppe Siri E Angela Mead Due ad Algise Che sono Annalisa Stroppa E Silvia Trio Santa Fe Poi abbiamo un pollione Straordinario Che è Fabio Sartori E poi in un altro cast Abbiamo un pollione Giorgiano Con un cognome Quasi impronunciabile Che io sicuramente Sbaglierò Che si chiama Micael Scioscia Berizze Non facile Poi dovrei ricordarmi Anche degli altri Abbiamo due orovesi Che sono il papà di Norma Il ruolo di oroveso Che è Fabrizio Beggi E Ildo Song Poi abbiamo nel ruolo Di Flavio Antonello Ceronne Nel ruolo di Clotilde Fulvia Mastrobuono Se mi sono sbagliato Stasera sarò ucciso Insomma un cast straordinario Al centro sempre è l'amore Ma nonostante l'opera Sia comunque datata È un'opera Dicevamo anche prima Lorenzo Sempre attuale Quindi ti chiedo Quanto c'è di attuale Nella contrapposizione Fra l'amore e la ragione di Stato Soprattutto se diciamo Mi permetto di aggiungere Che il San Carlo Oggi si apre Anche e soprattutto Alle nuove generazioni Rispetto del passato Dove il teatro Soprattutto San Carlo Era un po' chiuso In dei circoli Anziani Tra virgolette Oggi i ragazzi Sono anche innamorati Dell'opera C'è anche per l'opera Che sta facendo Il San Carlo Attraverso Il portare a teatro I giovani Attraverso una serie di iniziative Il topos Che tu dicevi Tra ragione di Stato E amore E sentimenti privati Sì è un classico Ovviamente È un classico Ancora di più nell'opera Sebbene noi siamo Anche chi non conosce l'opera E questo Noi protestiamo Noi amanti dell'opera Che non si conosce troppo Abbastanza Mai abbastanza L'opera C'è sempre da imparare qualcosa Tutte le volte E dicevo Questo topos È anche tipico Classico Anche della letteratura Del classicismo E tuttavia nell'opera Viene molto sfruttato Nel caso specifico Quando il conflitto Tra ragione di Stato E amori privati Finisce male È il dramma Quando finisce bene È la commedia È la commedia No Perché qua finisce male Ma anche In Don Carlos Di Verdi C'è questo conflitto Ma in tantissime Tantissime opere C'è il conflitto Tra ragione di Stato Che è un topos Nel senso Non è solo Una storia d'amore Ma è A cui si sovrappongono In cui si inseriscono Diversi temi E questo È stato utilizzato Moltissimo Ripeto E poi i grandi I grandi Compositori Sono riusciti a trarne Delle Delle complessità Delle cose molto complesse È molto bella Ricapolavore E ogni volta Si rivede Come diceva Claudio Ogni volta che si rivede L'opera d'arte è questa Ogni volta Non la vedi La devi rivedere Per cogliere con le sfumature Che personalmente Non avevi capito Perché magari esci di lì Capisci Comprendi le sfumature E poi vuoi rivederla Per confermare Quelle sfumature E poi apprenderne altre La poesia è quella che si rivede O la poesia che si rilegge E quindi rivediamola Questa volta La Norma Da stasera fino al 20 febbraio Al Teatro San Carlo Di Vincenzo Bellini Per la regia Di Lorenzo Amato Ringraziamo il regista Per essere stato qui con noi Per questa esclusiva A Mattina 9 Nonché ringraziamo Come sempre Esperto lui Lorenzo Fiorito Grazie per il nostro critico Grazie Grazie Noi continuiamo la nostra mattinata Quindi restate con Mattina 9 Dopo la pubblicità Altro argomento Interessantissimo Buonasera